Sono alla partenza le concorrenti dei 200 piani femminili, ecco l'ordine di corsia dall'interno verso l'esterno, nella prima la francese Claudine Ma, nella seconda Marese Masullo con il numero 3 in maglia bianca, nella terza Sylvie Revaud con il numero 2 francese e in quarta Erika Rossi con il numero 4. Sono sui blocchi di partenza, il giudice ha già dato ai vostri posti, intanto ha passato l'1.86 anche la Bulfoni, eccole pronte al via le concorrenti dei 200 partite, nella prima fase è la Erika Rossi che sembra allontanarsi mentre Marisa Masullo sta rimontando la francese Revaud ed ecco che le due italiane imboccano l'ultima curva al comando ma la francese sembra rinvenire all'interno, la Masullo è al comando, dovrebbe essere una doppietta italiana, sì! Marisa Masullo è a Erika Rossi, forse 23.97 il tempo di Marisa Masullo quindi ha eguagliato il primato italiano, doppietta italiana nei 200 metri femminili con Marisa Masullo che ha eguagliato il primato italiano indoor, intanto ci comunicano in questo momento che il tempo di Marisa Masullo che era ufficioso di 23.97 è stato corretto in 23.95 quindi Marisa Masullo, 22 anni, studentessa dell'Isef di Milano, ha stabilito così il nuovo primato italiano indoor, ripetiamo con 23.95